Cari amici, ritengo opportuno darvi un'informazione rapida sulla giornata di ieri. Sapete che ieri era la giornata che prevedeva rientri dal nord in Campania. Eravamo estremamente preoccupati che arrivasse in Campania qualche focolaio di contagio. Devo dirvi subito che grazie a Dio la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto problemi particolari. Abbiamo fatto controlli su 2000 persone arrivate in Campania con i treni, con le macchine, con le agenzie di autonoreggio a Capo di Chino. Abbiamo avuto ieri 15 persone che avevano la temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Abbiamo fatto 320 test rapidi per avere un primo screening. Abbiamo poi fatto le verifiche con 19 tamponi su situazioni che sembravano più delicate. Ad oggi 17 sono negativi. Attendiamo i risultati di altri due tamponi. Abbiamo registrato presso le ASL già 600 persone fra quelle che sono arrivate in Campania e sono messe in isolamento per due settimane. Poi ovviamente avremo anche altre persone che controlleremo. Cercheremo di fare i tamponi a quelli che sono rientrati in Campania e sono stati messi in isolamento domiciliare per 14 giorni. Quindi cercheremo di ridurre questi tempi facendo dei controlli con i tamponi. Per quanto riguarda i controlli attualmente in atto, noi proseguiremo con i controlli anche per i prossimi giorni. Abbiamo i nuclei delle ASL, abbiamo la protezione civile regionale, abbiamo le forze dell'ordine che sono impegnate nel prosieguo di questi controlli. I controlli riguardano ovviamente le stazioni ferroviarie. Manteremo per questa settimana i controlli ad Aversa, Caserta, Villa Literno, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno e Benevento. Per le autostrade manterremo i controlli al casello autostradale di Napoli Nord, di Caserta Nord-Sud, a Santa Maria Capuavetere Capu a Caglianello. I controlli ai caselli di Avellino Est ed Ovest, di Baiano, di Benevento, di Mercato San Severino, ai caselli di Grotta Minarda, Lacedonia e Vallata, oltre che ovviamente all'aeroporto di Capodichino. Da lunedì saranno consentiti gli ingressi nelle isole e quindi ci prepariamo questa settimana per avere il massimo di controlli su quelli che arriveranno a Ischia, Capri e Procida perché, come sappiamo, abbiamo lì situazioni di particolare delicatezza e quindi dobbiamo davvero controllare tutto. A Castelvolturno abbiamo dato indicazione all'Asda di moltiplicare i controlli sui migranti che sono andati a lavorare. Ne approfitto per chiarire ancora una volta che alcuni irresponsabili, per fare un po' di demagogia, avevano detto che arrivavano sul litorale Domizio, avevano essere 20.000 extracomunitari, è ovviamente un'idiozia. Avevamo detto un'altra cosa, che sulle persone che già vivono in quel territorio, ma che riprendono l'attività lavorativa, avremmo fatto dei controlli sanitari aggiuntivi per dare più tranquillità, oltre che ai migranti, per dare più tranquillità alle nostre famiglie e a tutti i cittadini di queste comunità. Questo è quello che abbiamo detto. Non verranno a nessuno. Faremo il doppio dei controlli su quelli che già sono in questi territori. Allora, come comprendete tutti quanti, è un lavoro snervante che dobbiamo fare. Ma non possiamo rilassarci. Neanche per una settimana, neanche per mezza giornata. Perché se facciamo questi controlli ossessivi, stiamo tutti quanti più tranquilli ed affrontiamo la fase 2 con una maggiore serenità. Ne approfitto ovviamente per ricordare a tutti quanti che in Campania l'uso della mascherina è obbligatorio. Vi prego di rispettare queste regole, perché in questo modo noi riprendiamo prima le nostre attività. Ne approfitto per darvi due altre informazioni. Per quanto riguarda i contributi alle microimprese e ai professionisti, abbiamo già emesso 4.500 mandati di pagamento alle imprese. Quindi credo nel giro di 24-48 ore le banche faranno gli accrediti sui conti correnti. Abbiamo fatto i mandati di pagamento per 3.300 professionisti, molti geometri e da domani partiamo con i mandati di pagamento per 20.000 avvocati. Attendiamo che anche altri ordini professionali ci diano notizie definitive con le loro casse professionali in maniera tale che procediamo con migliaia, decine di migliaia di mandati di pagamento. Comunque da domani cominciamo con i 20.000 avvocati con i mandati di pagamento. Da metà maggio pagheremo i contributi per gli studenti universitari con l'Adisurc. Infine avremo nei prossimi giorni incontri con tutta una serie di categorie, soprattutto commercianti, artigiani, varie attività. Voglio chiarire ovviamente che per quanto riguarda mondo del commercio, artigianato, parrucchieri, estetisti eccetera, la competenza è del governo nazionale. Noi ne approfittiamo per avere degli incontri di approfondimento con le categorie in maniera tale da poter dare indicazioni di merito anche al governo. Quindi abbiamo il primo incontro giovedì con ristoranti, bar, pasticcerie. Poi avremo un incontro con il mondo dello sport sabato 9. incontri fra la task force e parrucchieri, barbieri, estetiste lunedì 11, con i balneari lunedì 11 e proseguiremo così. Cioè la campania è entrata in una fase che potremmo definire la campania verso la normalità, la campania verso la ripresa. La task force regionale darà quotidianamente dei chiarimenti che vengono chiesti. Abbiamo ovviamente mille realtà, è un mondo estremamente articolato e quindi abbiamo a volte singole associazioni che ci chiedono chiarimenti. Beh, la task force regionale sotto questo titolo, la campania verso la normalità, darà quotidianamente se necessario dei chiarimenti, delle puntualizzazioni, delle aperture ulteriori in situazioni che non presentano rischi particolari. Cercheremo cioè di muoverci così, sulla linea che si è data la campania. Non perdere un minuto di tempo per agevolare la ripresa e l'economia, dare contributi a decine di migliaia di persone. Credo che faremo in questa settimana l'accordo con l'Inps per i pensionati al minimo, ma fare tutto questo un passo alla volta, in maniera ordinata. E soprattutto avendo questo obiettivo, favorire la ripresa e l'economia, ma facendo in modo di non dover chiudere fra due settimane. Questa è la linea della campania. Grande apertura, grande aiuto, grande vicinanza a tutti, ma facendo in modo che le cose che apriamo non dobbiamo poi chiuderle fra due settimane. Questa è la linea che abbiamo seguito e che credo stia portando risultati davvero importanti per tutta la comunità campana. Un saluto a tutti quanti voi stateci vicino e guardiamo con fiducia alle settimane che abbiamo davanti. Grazie a tutti.